Dietro alle nostre spalle il Palazzo del Governo della città, Palazzo Vecchio, che è anche il museo civico più apprezzato di Firenze. Un museo che resterà chiuso, una decisione presa con sofferenza da parte dell'amministrazione comunale, perché costa troppo. Allora, Assessore Sacchi, questo è un appello al Governo? È un appello molto chiaro, perché è oramai da 5-6 settimane che i nostri sindaci hanno puntualizzato in maniera inequivocabile la necessità del ristoro di una tassa di soggiorno per i mesi ovviamente di lockdown, per i mesi di chiusura delle nostre città. Noi con circa 42 milioni di euro di tassa di soggiorno e l'Italia con 700 milioni di euro, questo più o meno è l'ammontare della imposta turistica in tutta Italia. Noi a Firenze paghiamo dei servizi essenziali come quello della cultura, ma senza la tassa di soggiorno e senza un'azione, non abbiamo visto in nessuna bozza, in nessuna possibile azione governativa il ristoro di questa tassa. Senza questa tassa e senza questo versamento di danaro da Roma verso le casse dei municipi, noi non sappiamo come aprire un museo come il nostro straordinario Palazzo Vecchio, che è un simbolo della città. Immaginatevi quanto dolorosa sia la decisione di dire per ora il 18 non apriamo. Allora, io lo dico anche per rassicurare, so che tra i vostri telespettatori ci sono molti appassionati della cultura e dell'identità della nostra Firenze. Stiamo ragionando su quelle che potranno essere le tempistiche future di apertura, ma per ora il 18 non si può aprire.